Dani! Dani ha appena visto Axel fuori dai coglioni! L'ho imbitato io, l'ho imbitato io. Saluta che ti saluteranno anche loro. Io non ho fan. Ma chi vi ha detto di dare il mio culo via scontato? Non ho capito. E' male se fa le tariffe. Io ho scelto le tariffe e il tuo culo è attualmente quotato 6.000 euro. E' attualmente è quotato 6.000 euro il tuo culo. E' anche male. Sì vabbè ma iniziamo già con i rigori però cristo santo. E' anche che lo ipnotizzi. E' stato un po' troppo irruento. Ma porca puttana. Sono stati irruento. Grille vuoi proprio perdere. E' il mio bel tempo. 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 Younger. E' il mio bel tempo. E' il mio bel tempo. Che miracolo. Madonna questo. È il mio bel tempo! E' il mio bel tempo. Hanno il portiere contro la cittadale. sarà l'occasione e non gli escono così la chiamata no, devo uscire in un contesto perché sono scritte e sono con un contesto bello, Luiz ma porca l'orca ma quindi Spoggy sarà il nostro portiere ufficiale anche se è FIFA 16 sì, quando uscirà con l'IA access, magari sì allora ciao, buonanotte a Succhi no, Dani, ma no Dani, mi compri il controller elite ma non volevi il circo a Biello? lo zoo? eh, vabbè, ma lo zoo, ho visto che non arriva più a Bologna in centro a Bologna non hai più tirato la bomba ma ne è già arrivata una ma non ho visto niente io ma è stazione, proprio il tempo fa ah, ma mi sa che hanno già ricostruito tutto no, 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 non si fa così no, 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 ho detto di non ricostruire un cazzo, bastardo il mio zoo con le specie animali protette che tenevi in cantina, dicevi sì, quello che volevi anche l'unicorno, no? esatto sbatto io, Cari l'ottimismo, eh? Dani che fa fotografia sportiva alle tartarughe e se vuole potrà tirare pure in barbeste il mio tanto Lazzino... no, 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 no ha detto che non... ha detto che Dani non coida che non pippa va bene, va bene va bene tanto che ho montato, Lazzino, questo non taglia non tira, se stronzio, eh eh, Gopets ha la sua età, dai, poverino non tira cosa ohioia 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 45 45 Mia Era partito Ah Bortier ma vattela a pianta il culo va Ma io ho tenuto schiacciato X Non l'ha lanciata via sto stronzo eh Sono arrivato sulla palla con le X spigiate Ma no ma po Ma Pe Ma Peppa Pig Ma no Stronzo Così Cerco di non essere volcane E lui parte subito Questa è la censura La prendo non la censura No 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 un mucchio di gay Benissimo un mucchio di gay dentro l'ufficio Perfetto ottimo Mucchio di gay dentro l'ufficio Mucchio di gay dentro l'ufficio Di sempre la mezza Gameplay di minchia dance Minchia dance cos'è che ha detto NICCHIA 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 Madonna sempre penso a quello Eh sì A prestation 1 non c'avevo più io Questo è goal Dani facciamo una copia su Just Dance Sì certo No la copia su Minecraft Dani la copia su Minecraft Pijama con le babbucce Questa è quella dei Minions Porco 2 Dei Minions Come è babbucce dei Minions Io avevo una pagina arcomica Che si chiama Una babbuccia Ma perché ci stanno le ciabatte dei Minions Vuoi che non ci siano scusa? Io ce la Le ho le ciabatte dei Minions Ce le ho Quelle a format proprio di Minions Che ti infilino Ce le ho Ogri Dopo ti faccio la foto Te la mando su Whatsapp Sono bellissime Mamma mia Le ciabatte dei Minions C'ho anche quelle di Homer Simpson Ti faccio la foto anche a qui Bene bene Soldi proprio lanciati Proprio alla plebaglia Bene Ottimo E quelle dei Minions Me le ha regalate mia sorella Per i 17 anni Sì Tu ho sorella che si compra l'iPhone Gold Praticamente Vabbè Abbiamo detto tutto Sempre parole dolci Sono bellissimi Sono bellissimi i Minions Stron Stiamoci fumodi nella nostra postazione Bravo Complimenti Un genio Cazzo Oddio No oddio Eh il puccia Il puccia Ma ragazzi Aspettatevi Aspettatevi Tante avventure Su Gta No Su Gta No basta Anzi Lo vengo Lo vengo Su Gta No basta Facciamo le rapine E E E E Basta Perché Dovete creare Il flame Così Di una cattivezza Abbastardo Pendolare di merda Che è uscito dall'autobus Quando uscirà A primo dicembre Facciamo le avventure Su Su Minecraft Minecraft No Prego Raga Iscriviti al canale Al canale di Dore Mandateli messaggi Che contento C'è Se non vi Blocca prima Mi raccomando Scrivete BTL In grande Tore Spazio Tore Spazio 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 Tore Esatto Vabbè ma tanto poi Btl Bologna Torino Livorno Lazio Come quello che c'è Nell'universo Torino Roma Empoli Perché non Eritrea Invece che Otranto Otranto Ma io ho detto Osvaldo Io ho detto Osvaldo Lagga 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 Cristo Papadeus Adesso deve laggare Ho capito Ho capito Cristo Papadeus Sì Ah pensiamo alle offerte Boh E3 Mamma io Guarda cosa lagga E Figa lagga Figa che lagga Bene Una figa largosa Siamo un 4 a giocare su FIFA Due lagga Cioè I reparti più importanti Capito Cioè L'attaccante E il portiere Vabbè Vedo tutto Ti giuro Vedo tutto a scatti Vai che è buona Vai che è buona Bravissima Io sto vedendo tutto Comentamente a scatti È fuori gioco Abbiamo Finisce qua Oh sia chiaro eh Tutto registrato Vuole una percentuale qua Quindi Alessandra Preparate Vuole i miei sordi No no Tu adesso Adesso ci dai gli sordi Poi dopo Parliamo D'amifizia Ma sì Ma darci gli sordi Ma che cazzo È giusto Giusto Daniele Tanto se non te li frega Quando li frega Ma noi te li frega Lo stato Quindi Vedi un po' Ah Dani Dani mi sono dimenticato Una cosa Tu hai presente Il trailer Di The Dailant 2 No Quello che c'era Tizio con le cuffiette Che camminava In mezzo agli zombie Ah sì Ok ok Sì sì Ecco immaginiamo Di fare un trailer Con Gobez Che va in giro A uccidere persone Nello stesso modo Con questa canzone qua Dai non dirmi Che non sarebbe Una figata pazzesca Questa canzone Gobez Che va in giro Inquadrato da dietro Nel buio Che uccide tutti Esatto Con questa canzoncina qua Sorridendo Allegro No Salve Morto Con questa canzoncina Ehi Ehi Bella lì Morta Tipo l'espo Del cervello Lui è Lui è L'incarnazione Del film The Final Destination Dani E così Limpia Final Destination Lui è Ispirato a lui È stato ispirato A lui Quel cazzo De Final Destination Vai Solo una volta No Green Non facilo fare Che poi Te ne painti Green Stavi Stavi Leggermente In fuori Leggermente Lag 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 Oh ma lo mazi Ma porco Perché noi Gli fanno una maglietta Con scritto Lag 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 Così appena Vedi Lag C'è manco bisogno Capri bocca Lag Questo è Gol Infatti Comunque sia chiaro Cioè È Laz È Laz Che ci obbliga A fare Sti video Del cazzo Eh Dillo Grì quanto Prendi Di tredicesima Grì Prendi Ma prendi Pure il 730 Io non lo so Del cazzo Lo vedi Grì ma tu Evadi Sì Le tasse Di prigione È vero che dicono Che prendi la corrente Dei tralicci L'avete sentito Gomez No Lui va subito Sul pesante Ovviamente Che è detto Ma niente È solita roba De pedofilia Come al solito No Quello l'ho detto io L'ho detto che Che Grì Ruba la corrente Dei tralicci Delle elettricità Della corrente elettrica Tredici Delle elettricità Praticamente 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 L'iter è questo Gli zinger Rubano Dall'altro Io gli rubo I zinger Tu rubi il rame Che loro rubano Cioè praticamente Io so Il coso So robinù Delle elettricità Il paladino Della giustizia So robinù Delle elettricità Delle elettricità In pratica C'è un cavo Hai presente il cavo Così per ricaricare Le batterie Della macchina Ecco Ce l'hai attaccato Al traliccio E ti entra in casa tua Ti porta la due E trenta Tranquilla Pappu E trenta Tranquilla Saranno 12.000 volte Tranquilli Sì sì Però a fili scoperti Ovviamente Ah beh A fili scoperti Bellissima Guarda A fili scoperti Infatti Quando andiamo a dormire Io e mio padre C'è sta la luce Di traliccio Che illumina caso Tipo una centrale È una centrale Che esaltuna Infatti Smitters Guarda che Tra un po' Verrà a lavorare per te Sì È chiaro che Smitters Lavorava sotto uno Che c'aveva un sacco di soldi Io non c'hanno lì Eh vabbè Tu sei pieno di soldi Gris Sì Infatti Pieno di soldi Sto in affitto È di bambino È giro con appunto Talmente pieno di soldi E allora Non c'entra Non c'entra la macchina Gris A avere soldi Perché uno può essere Magari l'hai pagata 500 mila euro All'epoca Quella macchina Certo Vanno a punto 500 mila euro Vanno a punto Diventavo azionista Se me la comprava Ma tu sei azionista Tu sei il padrone Di Wall Street Certo C'è il secondo uomo Più potente del mondo Dopo Obama Infatti Infatti C'ho fatica A pagare bollette A momenti A pagare affitto Però sono il secondo uomo Più potente Ovviamente 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 Eh ma sei il secondo uomo Più potente del mondo Ho detto Ma poi Gris Le bollette Che cazzo le paghi a fare Cioè Le evadono tutti Ah si? Le evadono Si come no? Purtroppo Io sono rimasto All'antica Sai come Ancora me Ancora le bago E le bollette Cioè Dani Vuoi dirmi veramente Che tu pensi Che Lazaro Spaghi le bollette? Ma no Infatti Lazaro Scrive al buio Ah tra l'altro Ci tenevamo anche A sottolineare Che Greengram Vende sigarette Dal mercato nero Fatte artigianalmente Da lui Con il tabacco coltivato Sotto il letto Di casa Dove c'è tutta l'aria Delle sue belle Scorreggine fresche Di ogni mattina Schi Schi Tabacco prelibato Tabacco prelibato Da un certo aroma Speziato Quasi liquirizia Diciamo Da noi c'è Un certo ABL Ma io faccio Noi abbiamo anche Abbiamo anche Il chiromante Emanuele Gobetti Il chiromante Arcazza Il chiromante Vabbè Vabbè ma Gobetz Ormai è internazionale Sì guardo Emanuele Lissette Eh Gobetz Ormai è internazionale Beh senti In la provincia De Biella Gobetz Lo conoscono tutti Quanto porta Tagliella Eh parliamo Sei chiaro Infatti lo mio Farà solo Gli Eurogolf Puoi iscrivervi Al canale BTL Clan Che ha BTL Clan Greengram Porco Lasciamo tutti Lasciamo tutti I link In descrizione In descrizione Ma Mattia Cosa vuoi Tu Stiamo parlando Noi Ma tu Non rob Stiamo facendo Il discorso Promozionale Arriva lui Sì sì In descrizione In descrizione Ma Dio Ma Quelle due Ancora No Ancora no Ah e vi annuncio Aurora La possibilità Di acquistare I pupazzi In serie limitata Del clan Ma Dio Ognuno Con una dote Diversa Ve le elencheremo Poi in un prossimo Video Ma sono qualcosa Di formidabile Quello di Gobetz Fa salve E subito Delirio Parla laggando Salve Salve